Ma che splendida giornata, pulisco un po' di qua e di là e tutto devo farlo in là Amedeo, ciao, vedo che ti stai divertendo Oh Silvia, ciao, sto facendo un po' di pulizie Ma che bravo, ci fossero più uomini come te Beh, non per vantarmi ma mia mamma dice che sono un uomo da sposare e non lo dice perché sono suo figlio No, certo che no Ma senti, quello non è il set di pulizia Vileda Revolution? Beh esatto, è una soluzione completa per la pulizia della casa Va bene su tutte le superfici, compreso il pacchè e il laminato L'ampia piastra rettangolare aderisce perfettamente al pavimento e possiamo pulire senza sforzo Il manico è universale, quindi si adatta a ogni manico standard e ha uno snodo a 180 gradi Il che ci permette di raggiungere anche i punti più difficili Il panno del nostro Vileda Revolution è composto da due tipi di fibre, è infatti un panno in microfibra Quelle bianche sono dedicate ai pavimenti splendenti, mentre quelle rosse e grigie servono a combattere lo sporco molto ostinato Insieme riescono a ridurre del 99% i batteri I pratici bottoni permettono di fissarlo facilmente alla piastra, il che ci permette di ottenere una pulizia profonda Lo strizzatore favorisce l'inserimento del panno e grazie alle sue molle attive ne permette una strizzatura ottimale Questa è un'importante differenza rispetto al mocio tradizionale, che comunque anche dopo averlo strizzato risultava molto gocciolante A differenza del mocio tradizionale, il panno in microfibra di Vileda Revolution può essere lavato in lavatrice senza aver nessuna paura Infatti il mocio tende a essiccare le sue estremità, mentre il nostro panno in microfibra può essere lavato più o più volte senza perdere nessuna delle sue caratteristiche Consigliamo di non lavarlo oltre i 60 gradi, di metterlo insieme a capi dello stesso colore e ovviamente di non utilizzare asciugatrici E non utilizzate l'ammorbidente Per staccare il panno infatti basterà alzare i pratici bottoni Invece per sollevare la testa del mocio tradizionale servono degli strumenti appositi, coltello, cacciavite, forbici Ma ricapitoliamo, all'interno del box Vileda Revolution troverete il secchio con lo strizzatore a molle attive Il manico diviso in tre parti Una testa piatta snodabile a 180 gradi e ovviamente compatibile con lo snodo universale E due panni in microfibra Ovviamente potete trovare il box Vileda Revolution sul nostro sito www.bpmpower.com Cliccando sul link qui sotto Se questo set di pulizia non andasse incontro alle vostre esigenze, nei link sottostanti ne troverete altri Sia di Vileda che di altre marche Vi invito a iscrivervi al canale YouTube, mettere in piaccia la pagina Facebook e il follow su Instagram Se non l'avete già fatto Ciao a tutti e alla prossima Ciao E ora scusa Silvia, ma ho ancora molto da fare oggi Tranquillo, non c'è problema Anzi, quando è finito qua ci sono anche le altre stanze da pulire Ma perché sempre a me?